gentili telespettatori buona giornata tradizionalmente il primo maggio è la festa dei lavoratori di tutti i lavoratori non dei lavoratori di centro di centrodestra di centrosinistra e di tutti i lavoratori è una festa che non dovrebbe avere nessun colore politico ma in italia cercano di incasellare tutto ogni cosa deve essere o di centrodestra o di centrosinistra e se viene identificata come ideologia opposta bisogna contrastarla e così tradizionalmente dicevamo al primo maggio la festa del lavoro dei lavoratori una celebrazione che appare incoerente per il periodo storico in cui si trova l'italia insomma dove in italia si sta perdendo un sacco di posti di lavoro c'è la festa del lavoro ma giorgia meloni su facebook dice finché non verrà consentito tutti gli italiani di poter tornare a lavorare a vivere non ci sarà nulla da festeggiare matteo salvini va e festeggia in piazza duomo dove c'è il sindacato che viene definito di destra l'ugl di milano salvini dice l'impegno nonostante i gufi i menagrami eccetera eccetera è entro la metà di maggio di far tornare a lavorare tutti i lavoratori italiani al chiuso all'aperto di giorno di sera la mattina la notte dice proprio il segretario della lega salvini premier alla manifestazione a milano dell'ugl e dice questa è la prerogativa della lega che punta ad abbattere le chiusure notturne per eliminare qualunque limite alla ristorazione ora costretta a chiudere entro le 22 e a somministrare solo all'esterno ci sono poi i centri commerciali ancora chiusi nel fine settimana anche quello è dannosissimo per chi per i negozi che sono nei centri commerciali ma sapete quanto costano gli affitti in un centro commerciale e i giorni più produttivi che sono il fine settimana sono chiusi è un qualcosa di quando riapriranno bene questi centri commerciali vedrete come ci sarà la metà dei negozi e prima che riapre un'altra metà di negozi passeranno forse un decennio forse e poi c'è il comparto dei parchi di divertimento i congressi le fiere che ancora non possono aprire e salvini dice questa discriminazione nei confronti dei dipendenti del settore privato dei lavoratori autonomi degli artigiani delle partite iva dei liberi professionisti dei commercianti non ha più senso dice salvini in piazza duomo dal palco il leader della lega poi prosegue così dice non mi interessa che vinca la lega quando verrà cancellato la chiusura notturna e torneremo a lavorare i 150 mila ristoratori che non hanno un tavolino all'aperto sarà un successo per loro e non di salvini e su qui siamo completamente totalmente d'accordo non è una vittoria di salvini ma una vittoria dei ristoratori una vittoria dell'economia italiana ma c'è ancora qualcuno leggevo prima di fare questo video che continua a dire a quel stucchevole questa cosa della lega di spostare l'orario alle 23 cari amici non c'è niente di stucchevole il spostare l'orario dalle 22 alle 23 non è per andare a farci la passeggiatina col cane è per poter far lavorare di più i ristoranti perché chiudendo alle 23 alle 23 deve essere già tutto chiuso non c'è il tempo di sedersi a mangiare la sera di andare lì alle 7 7 e mezza e la gente non ci va questo il problema non è la passeggiatina un'ora in più sotto casa è la possibilità di far lavorare le persone altro che stucchevole stucchevole è chi dice stucchevole che probabilmente non ha la minima idea di che cosa sia un'attività commerciale che cosa sia un ristorante un bar cosa siano le spese che hanno e così arriva anche ricoletta si schiera contro matteo salvini lui ogni mattina si sveglia e sa che dovrà dire qualcosa contro salvini non l'avversario ma il nemico e così in una video intervista con il direttore della stampa definito irresponsabile il leader della lega invitando gli italiani a non seguire lui altrimenti a maggio richiudiamo il paese e così il capo del pd sembra quasi mettere le mani avanti per le prossime chiusure che come si sospettava verranno fatti cadere sui presunti comportamenti irresponsabili gli italiani che non stanno facendo nulla di diverso rispetto a quanto loro concesso il meccanismo sanzionatorio ha allentato la presa e dipende dalle persone dice dico agli italiani siate responsabili se seguite salvini ci giochiamo l'estate ma cosa vuol dire seguite salvini in che senso seguite salvini in che cosa salvini che dice se i numeri positivi apriamo fino alle 20 cioè chiudiamo alle 23 se i numeri negativi lasciamo alle 22 cosa significa seguire salvini ci giochiamo l'estate ma seguire salvini dove letta dove telefonami dimmelo scrivimi un whatsapp dove dovrebbero seguire gli italiani salvini dove ma una fase alla quale indirettamente il leader della lega ha risposto da piazza duomo dice sediamo retta a letta e a roberto speranza stiamo chiusi in casa fino a ferragosto ma il paese non può morire di fame di disoccupazione c'è certa sinistra che i lavoratori non li conosce più e alcuni lavoratori non li vuole neanche vedere ecco insomma beh che i lavoratori i commercianti siano sempre stati giudicati dal centro sinistra in un certo modo questo è vero la sinistra ha sempre parlato di operai impiegati il commerciante un po visto come il riccone col macchinone che ha i soldi il rolex certo ci sono tanti commercianti che hanno l'orologione il macchinone la casona ma ce ne sono la maggioranza che non sa come arrivare a fine mese che poi chiude perché non può pagare l'affitto e le tasse beh insomma dire che i commercianti siano tutti dei ricconi alla fine non è la realtà sono una minoranza i commercianti ricconi molti sopravvivono molti arrivano alla pari molti chiudono dopo che ci provano a sopravvivere ecco insomma però la visione che il commerciante sia il riccone che non paga le tasse c'è sempre stato c'è sempre stata questa visione del commerciante così ecco io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti